Grazie a tutti, ringraziamo con un applauso Matteo che ha venduto la dignità pur di dire qualcosa al CSS Day, grazie Matteo, un applauso anche a Grusp che per tre anni è riuscito a fare questo evento contro qualsiasi statistica, ha fatto tre anni di fila sold out, bene, allora prima di iniziare una domandina giusto per, avete mangiato bene? Avete sonno? Chi ha superato le tre medie? Bravi, avete la mia stima e il mio rispetto. Ok, altra domanda serie, quanti designer in sala? Quanti sviluppatori? Quanti CSSari? CSSaro è una persona, per chi non lo sapesse, c'è la pagina Wikipedia, è una persona che spende più del 70% del suo tempo scrivendo CSS. Bene, a proposito di ciò, iniziamo, chi sono? Mi chiamo Davide Di Pumpo, sono senior frontend developer per Credimi, è una piccola startup che presta soldi, sono coorganizzatore del Milano Frontend Meetup, tutti quelli che sono di Milano o zona se volete venire ai prossimi eventi, ci sarà un talk a fine mese su Stop Using Bootstrap Please, ho detto bootstrap. Sono il maintainer di Supergigi, che è una libreria, un framework, no una libreria, per scrivere griglie in Flexbox, visto che teoricamente Flexbox non è nato per questo come abbiamo imparato questa mattina, mi trovate su internet con Nick Macbeth ovunque, mi piacciono i gatti, me ne accorgerete, fumetti, videogiochi e le cravate, non la metto per fare il pirla come De Carolis, cioè proprio nel mio outfit le... Io le metto proprio nel mio outfit normalmente, è una cosa che mi caratterizza, e gioco a ping pong. Ok, possiamo iniziare. Allora, prima devo parlarvi ancora un pochino di me, sono nato nel gennaio del 1985, era una serata uggiosa, sto scherzando, non vi parlerò davvero della mia vita, però una cosa importante, volevo dirvi cosa volevo fare da piccolo. Io da piccolo volevo fare una cosa, il web designer, quando ho capito cosa era, prima volevo fare il dentista, poi ho capito che mi facevano schifo le bocche degli altri e ho smesso con questa cosa qua. Però cosa ho fatto davvero nella vita, sperando di fare il web designer, e ho iniziato studiando informatica, poi mi faceva schifo perché non vedevo nulla, usavo il terminale per la maggior parte del mio tempo, e sono andato a fare un corso di graphic design. Il primo lavoro ho fatto il programmatore flash, con grafico pubblicitario subito dopo, poi frontend developer, UI designer, nel frattempo ho sempre fatto siti web per il pizzaiolo di turno e cose di questo genere, però per gli ultimi due anni della mia carriera, 2015-2016, ho fatto praticamente il CSSista, secondo la definizione di qui sopra. Era una grande società fintecca anche in quel caso, quindi ruoli molto fissi, e la maggior parte del mio tempo scrivevo CSS. Perché mi sto raccontando questa storia, perché è una storia, come tutte le altre, io penso che in questa platea è una storia che ci accomuna un po' tutti. Non è che uno si sveglia al mattino e dice mamma da grande voglio fare il CSSista. Il mio nipote ancora mi chiede di disegnargli al massimo la sirenetta, i Spider-Man, ma di layout flexbox non ne vuole sapere. E direi che proprio il CSS Day è dedicata a dev e designer, quindi nella platea mi aspetto una buona rappresentazione di entrambi. Perché? Perché il web è una miniera d'oro, è la miniera d'oro di questi anni. Più o meno, ovviamente. Ci puoi trovare in mezzo un pochettino di tutto, designer, dev, IT, addetti marketing, webmaster, scappati di casa, qualcuno ne conosce, mio cugino che è una figata, perché come dicevamo prima, questa diversità ci ha portato il web come oggi. Cioè io mi faccio delle granghigne sui terrapiattisti su Facebook, cioè è una cosa che anche loro ti portano del bene, poi scoprirò che ho torto e rideranno loro di me. Bene, quindi questa è una tipica riunione per un sito web, un IT, l'ultimo è ovviamente il CSS Aro, che è lì che si chiede perché ho fatto questo, il dentista non era poi così male. Bene, però concentriamoci su di noi, abbiamo detto designer and developer, che è la figura, se andate su internet a cercare questa roba qui, trovate di tutto, cioè articoli, gente che si ammazza, amicizie finite. Affington Post ha fatto un articolo due anni fa su una designer e un developer che si sono sposati, è un'eccezione. E a me mi piace immaginarli così un attimo, no? Cioè in realtà potete vedere tutta la trilogia di Star World, entrambe, non l'ho ancora visto, no l'ultimo l'ho visto, potete rivederlo come la storia tra sviluppatori e designer. Oppure anche qui in questo caso vediamo il designer e lo sviluppatore, dietro ci sono figure anche lavorative, qui c'è Guidotto che fa il PM, che cerca di dire ok, kill it with fire, ok. Però abbiamo detto che siamo qui al CSS Day, stiamo parlando di designer and developer. Com'è il rapporto tra un CSS e tutti gli altri che fanno questo lavoro? Io lascerò la parola a qualcun altro. Più o meno questo è quello che succede quando si parla tra gente. Ah ma io uso SAS, ah io less, boom, civil war. Ah ma io uso post CSS, io uso CSS modules, boom, civil war pure lì. Io uso BEM, io ho CSS, boom, civil war anche lì. Però una cosa, quando è iniziato questo talk, faccio un passo indietro, io ho trovato questo titolo che mi piaceva da dire, ho appena visto il film, ho detto io adesso mi faccio, ho fatto un paio di proposte, uno era sulle CSS Grid ma è stato preso qualcun altro, ti odio. L'altro era Stop Using Bootstrap ma non è stato preso e quindi ho trovato questo, ho visto questo film, ho trovato questo titolo fighissimo, boom, vado, pubblico, me l'accettano, non sapevo su cosa fare il talk. Quindi ho chiesto, come mi succede spesso in queste cose, ho chiesto un po' in giro di cosa posso parlare secondo te a riguardo e mi sono arrivate delle risposte veramente fenomenali, ho chiesto designer e un developer. In questo caso decidete voi se è un designer o un developer. Daniele Bertella, lo trovate sul canale di Fever, che mi risponde una cosa tipo, vabbè cosa c'è da dire sul CSS, magari qualcosa su CSS in Gess poteva essere carino ma la metà di quelli che stanno qua non capirebbero quello di cosa stiamo parlando. Secondo voi questo è un dev o è un designer? Perché se fai CSS sei un designer scarso nella mente del developer, no? Cioè se eri così scarso con il tuo linguaggio di programmazione sei andato a finire a fare CSS. Bene, allora chiediamo a un designer. Il designer che mi chiede, la domanda è un po' diversa, è un discorso un po' lungo, vuoi imparare il CSS? Sì vabbè è un tool, cioè quindi, ho detto, poi continuo la conversazione, serve un po' conoscerlo ma alla fine c'è lo schiavo che te lo fa, tu gli dai il layout e lui è un tool, cioè la discussione continua, un domani verranno fuori dei tool che da sketch esportano CSS, tu sei inutile. Opinabile? Praticamente la morale è che... diciamocelo, tu sei quello che dice no al dev, no al designer, no al PM e se c'è un errore è un problema di CSS. Non arriva il dato dal back end? Prova a sentire quello del CSS. Mentre ero qui ad un talk mi è arrivata una notifica dicendomi il controllo del codice fiscale non funziona. Prova a chiedere a Davide. Ok, poi il back end, chissà come strano. Bene, questa è un'altra testimonianza, lei è voluta rimanere anonima, che dice tutti credono che facciamo robe da bambini, è fastidioso, non sarà chimica organica o scienza dei razzi, come piace chiamarla a me, ma rispetta agli altri un minimo, cioè quello che stiamo chiedendo qui è di avere un po' di rispetto. Sbaglio? Ok. Nessuno vi ama. Ok, però, 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 diamo credito a queste cose. Diciamoci la verità. Siete pronti? Il CSS fa schifo. Questa è la più grande verità che può apparire su una conferenza sul CSS, personalmente. Vogliamo fare una prova? Ok, quanti di voi scrivono CSS? Toglieteci CSS Modules e Style Component. Tenete alzata la mano se fate CSS. Togliete Sass, Lest, Lest e Post CSS. Togliate Bootstrap e Foundation. Una persona, qui scrive, no, due persone scrivono ancora CSS proprio, ok. Siete le uniche due persone a una conferenza CSS che scrivono CSS? In conferenza? Anche? Siete la minoranza? Magari è giustissimo, sbaglio io. Ok, perché il CSS ha dei problemi? Questo è un talk famoso di, non mi ricordo come si pronunci, ci avete il link dopo, dove praticamente dice tutti i problemi del CSS. Uno sviluppatore che ha creato CSS in JS, per chi non lo conoscesse, praticamente dice c'è il global namespace, quindi le variabili non esistono, le dipendenze sono ingestibili, se avete un pezzo di codice che lì fate prima a non toccarlo che a rimuoverlo perché non lo sapete quello che fa. L'isolation lo fai con code pen, purtroppo è vero, cioè non puoi avere... Invece un designer, come vede il CSS? Quali sono i problemi di CSS? Oh, non è sketch. Non posso fare i disegni e quindi non va bene. Cioè, questo è il problema mio, più grande di CSS. CSS non riconosce gli errori, nel senso che se voi scrivete una regola CSS spaccata, canne quel pezzettino, continua a funzionare. Il browser non ti dà nemmeno un errore. Firefox ogni tanto ti mette degli alert, non degli errori, è degli alert, dicendo, pensateci ai prefissi. Poi scrivendo prefissi, per tutti i browser che non lo supportano, state scrivendo delle regole che il browser non riconosce. Fatelo in JavaScript. L'applicazione non parte. In HTML se sbagliate un tag all'inizio, quello che c'è dopo può andare e non andare in CSS, sono i capi, va tutto bene. Questo lo fa percepire come un linguaggio facile, non dà errori, figo, ho finito. E sapete tutto questo cosa mi ricorda, visto che faccio purtroppo questo lavoro da un po' di tempo, sono sempre più giovane di quello che sono? Mi ricorda tutto ciò, per chi c'ha memoria, JavaScript nel 2008. Adesso c'è questo boom di JavaScript, pensateci. Le conferenze, molte conferenze, eccetera. Però stiamo parlando di un linguaggio che se avete un po' di memoria storica di fare questo linguaggio, che se tu vendevi uno sviluppatore di qualsiasi linguaggio, fosse pure l'ultimo framework JavaScript, ti diceva JavaScript fa schifo. È uguale, ma è vero. Questi sono degli esempi console di Chrome. Abbiamo un linguaggio di programmazione dove se gli chiedi 0.3-0.2 ti risponde così. 42 più true fa 43. Oggetto più array fa 0. E typeof di oggetto più array fa stringa. Ora, vorrete dirmi, voi pensate che i vostri soldi passano per la maggior parte del tempo, se avete un home banking, su un sistema di questo genere? Ed è Chrome. Se volevo aprire Explorer, stavamo ancora qui. L'ultima versione di Chrome. Però JavaScript ha ottenuto il giusto rispetto. Cioè, adesso JavaScript è un linguaggio, non solo è un linguaggio degnittosissimo, è il linguaggio più utilizzato al mondo sui vari sondaggi. È un linguaggio che ha ottenuto il giusto rispetto. Io non sto dicendo che JavaScript fa schifo, occhio. Sto dicendo che ha ottenuto e era preso un po' per i fondelli, ma alla fine ha ottenuto il suo rispetto. Come ha fatto? L'ha fatto attraverso l'educazione. La gente è stata educata a usare bene JavaScript. Attraverso la possibilità di fare testing, il TDD ha cambiato il modo in cui scriviamo JavaScript. Attraverso prepossessore tools, perché ricordiamocelo, ECMAScript 2015 è arrivato davvero, grazie a Babel, che non è altro che un post CSS. No, concedetemelo. Attraverso convenzioni. E non includendo GQ, da nessuna parte è riuscito addirittura il movimento vanilla JavaScript, perché a un certo punto, nel 2007-2008, iniziamo un progetto. Ok, vai, GQ, posto, iniziamo. Chi non l'ha mai fatto? Bene. Ok, parliamo quindi di educazione. Educazione del CSS. O come evitare le bad practice. Stamattina ci sono stati molti talk al riguardo. Io faremo una carrellata molto più veloce, quei talk sono più esaustivi. Una delle cose che mi è piaciuta di più del talk di Mattia era evitare i magic number. Perché se voi andate da un qualsiasi programmatore e gli dite, oh, ma vedo un sacco di magic, cioè gli fate vedere le magic number, vi prende a testate. Ma anche per chi di voi è un designer, se andate da un architetto e gli fate vedere che i numeri, la line 8 l'avete calcolato a sentimento facendo su e giù sulla freccetta di Photoshop, vi prende a testate. Perché se tu fai un palazzo con lo stesso metodo... Ok. Ah, questa è la definizione di Wikipedia, per chi se la volesse leggere, è un pochettino più. È un termine usato prettamente in maniera dispregiativa. Ok, il CSS è pieno di numeri e misure. Che spesso inseriamo a caso? Io in primis. Cioè, quella colonna lì, ma sì, 33,3333 per cento e boh malek. Cioè, siamo peggio dei pittori. Cioè, Da Vinci per disegnare la Mona Lisa, cioè, si era fatta tutta la griglia. Noi ogni... pagare solo io, eh. Ho solo i designer che ho conosciuto. Succede ogni tanto di... soprattutto su alcune cose un pochettino fumose come la line 8, sui bordi, sul padding, ma sì, così a occhio va bene. Cioè, quindi, primo step designer, smettetela, passate a pensare a sistemi di griglie, anche per l'allineamento orizzontale. Ce ne sono parecchi in giro. Questa qui è la 8 point grid, dove tutto è un modulo. E quindi quando voi decidete lo spazio tra due bottoni, non mettete un massimo 15 pixel, mettete 16 perché volete usare due colonne. Questo è uno dei sistemi, ce ne sono mille, poi ci sono le slide dopo. Vogliamo parlare della line 8? Purtroppo si vedono pochissimo. L'esempio, qua ci sono tre font, tutti i font size 100 pixel. La line 8, che è questa più scura, è diversa per tutte e tre. Perché purtroppo il CSS e i font spesso non vanno d'accordo. Come calcolare la line 8? Questo è un argomento che da sé basterebbe per un talk. L'unica cosa che vi consiglio, cliccando sull'immagine, poi sulle slide che sono già online, c'è un articolo di una trentina di pagine che vi dice esattamente come calcolarla e come smetterla di inserire dimensioni a caso. Altro consiglio che vi posso dare è passate al funzionale. Per il CSS, è una figata, allucinante. Praticamente iniziamo a dire ok, io voglio un colore primario come funzione, come mixing di sassi in questo caso. Voglio una font size grande, che ti mette già tutte le proprietà con la line 8. Iniziate a mettere ok, voglio una colonna 12 colonne, grid column 12 e voglio uno spazio margin top di due volte. Questo tipo di approccio non solo è testabile, adesso vi farò vedere come. Potete fare il TDD col CSS. Non solo è testabile, vi dà un output più sicuro, più controllato e per chi è fissato con le prestazioni, con GZIP tutte le regole tenute nello stesso ordine, duplicate, vengono compresse molto più facilmente. Quindi ottimizzate anche il CSS risultante. Quindi qui ci sono tutti i link, ve li potete andare a leggere, adesso veramente sarebbe lunga a spiegare, solo per la modular scale e la line 8 ci vorrebbe una giornata, cioè la line 8 è veramente un bordello allucinante, però lo studiamo. Ok, testing. Si può testare il CSS e dovremmo farlo. Se non vogliamo che lo sviluppatore ci guardi come se facciamo schifo, che siamo una cacca pestata per terra, dobbiamo testare. Come si fa a testare? Beh, se utilizzate tipo Karma avete accesso al DOM, quindi potete controllare che quell'elemento sia in pagina. Quindi è già un minimo di cose. Potete iniziare, se già utilizzate TDD, iniziate a imparare a scrivere i test JavaScript per controllare il CSS, non ci vuole molto. Si può anche andare oltre True, è una libreria SAS che vi permette di fare unit test su SAS. Quindi potete controllare che le vostre funzioni ritornino quello che avete fatto. Se siete malati di mente come me, vi fate il quicksort 3 in SAS, potete testare che funzioni e che quindi non spacchi la vostra applicazione. Questo è un esempio banale. Io include font size large, mi aspetto 2 RAM e 3 RAM. In questa maniera avete la code base, al sicuro. Ci sono anche, che è differente dal TDD, quindi un po' differente da quello di cui parlava prima Mattia, i regression test che io personalmente lancio la notte. Sono pesanti di brutto, ma fanno questa cosa, vedono la precedente commit del giorno prima, quella di oggi, l'ultimo risultato, e ti dice cos'è cambiato. Se avete sviluppato una pattern library, lanciate un regression test su questo e vedete cos'è cambiato. Se volevate cambiarlo, se è un errore. Tool. Tool direi che è l'unico argomento di cui possiamo anche sorvolare. CSS su quello sta messo meglio di qualsiasi tool web. Abbiamo SAS, l'espos, CSS, CSS in JS, c'ha 28 moduli differenti per fare la stessa cosa, eccetera. Se non sapete di cosa stessi parlando, fermiamoci qui, aprite Google e iniziate a interagire con i processori. Convenzioni. Non stiamo parlando di sconti del Lidl. Ma c'è stata prima Carla che ne ha parlato parecchio. Se vi dicessi che anche quanti spazi mettete nel codice, è una cosa importante. Per Git, se versionate il vostro codice, se avete indentato con gli spazi o con i tab, cambia. Quindi consegnate a chi viene dopo di voi. Un codice leggibile. Non solo perché così quando guardate il vostro CSS non vi fa schifo e non vi insultano di nuovo voi stessi. Perché così rafforzate le best practice, aumentate la manutenibilità. È molto più professionale presentare uno stile sempre uniforme, sempre con la stessa... è proprio più ordinato. Ed è una cosa facile ad ottenere grazie all'Inter. Ne abbiamo parlato anche stamattina. Io lo metto direttamente nell'IDE, così quando sviluppi ce n'è per tutti Sublime, Atom, qualsiasi ce l'ha. Vi dice tipo qua, border radius, ho usato due volte quattro pixel, metti solo una volta quattro pixel, è ridondante. Oh, hai usato important, occhio. E ti chiede anche di mettere in ordine alfabetico le regole. Che c'è un motivo, è più performante per Gzip. Quindi giustamente poi potete decidere di non farla come convenzione, però come default mi sembra intelligente, tra una scelta e un'altra. Ok. JavaScript ha smesso di importare GQuery ovunque. Io vi chiedo, non importate Bootstrap in ogni vostro progetto. A tal riguardo, ho ottenuto un talk al CodeMotion, trovate online video e slide, e a fine mese al Milano Frontend Meetup faccio il talk, tipo da un'ora e mezza, su tutte le cose per cui ho deciso di smettere con Bootstrap. Quindi, il CSS deve essere facile da capire e deve sopportare tutta la gente che si avvicina al web. Che abbiamo visto all'inizio c'è un sacco di gente che deve lavorarci. Però il CSS non ha bisogno della vostra pietà. Questo è il vero concetto. Cioè, non è che il CSS fa schifo e quindi è, sì, il CSS siamo noi che dobbiamo, come community, qua siamo 250 persone che sono qui perché di riffo di raffa lavoriamo col CSS. Quindi, anche a costo di prendermi un po' di antipatia, poi mi votate con la stella negativa sul sito. Dobbiamo iniziare con queste bestie. Non prenderemo mai dignità nella community mondiale se continuiamo a non fare del buon codice, a fare del buon design anche. Noi dobbiamo prendercela questa cosa qui. Ce lo meritiamo e magari ci aiutiamo anche a far aumentare gli stipendi medi, che schifo, penso che non faccio a nessuno. Sbaglio, qualcuno è in disaccordo sull'ultimo punto? Bene, qualcuno di voi lì dentro, tra di voi, vi dirà, oh io già lo faccio tutto, non mi hai detto nulla di nuovo, bella, però mi guardano sempre come l'ultima ruota del carro. Beh, in questo caso io voglio citare Yokoji Raudel, Sessmeister, un pochettino famoso per chi scrive SAS, che dice più o meno questa frase, non lasciate che nessuno non vi consideri un web developer solo perché usate o non usate qualcosa. Mandatela a quel paese e continuate a fare il vostro mestiere. Grazie. 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 Grazie.